Episodio di brutte notizie, ahimè purtroppo queste non mancano mai. La prima è colpa mia, ho registrato 4-5 episodi senza registrare l'audio. Dio che bestemmie! Non so come sia possibile, a di punto in bianco ha deciso di non riconoscere il microfono. Tristezza infinita, devo vedere un po' cosa fare, sicuramente tanti video non li vedrete, o meglio, non li avrete visti, perché avrò scelto di buttarli. E seconda brutta notizia, che non dipende da me in questo caso, c'è stato da poco un aggiornamento, da tre giorni c'è stato un aggiornamento. E questo mi spiega il perché stavo bestemmiando così tanto con i villager. Allora, i primi giorni ne ho fatti davvero tantissimi e mi sono fatto un sacco di bibliotecari, ve l'ho fatto vedere, abbiamo i migliori incantesimi, però ho deciso di strafare, tant'è che ne volevo tantissimi per avere praticamente un po' tutte le magie importanti a portata di mano. Beh, cosa prevede? Andiamo a dormire. Cosa prevede questo aggiornamento? Che non è più possibile farmare i libri che hanno i bibliotecari, nel senso che ne hanno solamente alcuni e altri non possono averli, non ci sarà più il trucchetto del mettere e togliere il leggio, questo qui. Quindi metterlo e toglierlo non servirà a cambiare il tipo di libro incantato per trovare l'incantesimo che ci serve. Non si può più fare. E credo che questo, in qualche modo, abbia inflito sul fatto che non sto più riuscendo nemmeno ad avere i bibliotecari. Ho fatto nascere, cioè ho fatto nascere io, no, io ho dato il cibo, poi loro hanno fatto nascere centinaia di villager, non sto esagerando, li ho ammazzati tutti perché non ne ho mai più trovato uno che facesse il bibliotecario. E va avanti da due giorni, effettivamente da tre giorni c'è stato l'aggiornamento, ora mi spiego il perché. Beh, tristezza infinita, quindi che cosa faccio adesso? Visto che sarà impossibile avere quelle determinate magie tipo ripara, che sono importantissime, io un pochettino me le ero fatti, ma non ho pensato di farmi una scorta perché mi sono detto tanto ormai ce li ho. Guardate, ne ho tantissimi. Ho riparazione, ne ho però uno, uno, basta. Poi ho efficienza cinque, non male, ne ho solamente due. Poi ho tocco di velluto che ne ho quattro, infinito per l'arco, potenza cinque, fiamma, vabbè questa non è poi così difficile a trovare. E basta, quindi riparazione, ne ho uno solo. E riparazione figlioli è una roba OP, cambia veramente la vita. Guardate questa spada qui e questo piccone ce l'ho da giorni e sono nuovi. Quindi per sicurezza io vado a farmi scorta dall'altra parte, carrello stupido. Devi andare di qua, taci due. Ops. Quindi mi vado a fare scorta di questi incantesimi ora che si può fare. E per l'occasione vi faccio vedere quella che era la mia farm di villager. Questa è l'entrata praticamente con la ferrovia che arriva dalla mia basetta. Non siamo poi così distanti, però sono già più di quattro junk. Abbiamo la parte posteriore che è questa. Ho buttato così. Abbiamo il nostro mob che fa il suo sporco lavoro. Abbiamo i villager, questi si procurano il cibo e sfornano figli a manetta. E tra parentesi, finalmente, dopo che ne ho uccisi a centinaia, mi è uscito fuori in armaiolo. Sì, perché mi serve il terzo armaiolo per avere anche la corazza in diamante. La pettorina. Mentre bibliotecari proprio zero. Ma la parte più bella è questa qua. In pratica questa è la parte esterna. Noi entriamo da questa parte e ci troviamo tutta la mega sala. Mi è costato un lavorone. Adesso ve li faccio vedere per bene. Allora, dal lato destro abbiamo tutti i bibliotecari. E arrivano più o meno fino a metà. Guardate quanti me ne sono fatti. E poi c'erano ancora altri cinque posti che contavo di riempire proprio con i bibliotecari. Perché me li facevo talmente facilmente che non mi sono neanche mai posto il dubbio se poi fosse difficile o meno trovarne altri. Quindi tutta questa parte qua era i bibliotecari. Poi qua ancora niente. Sono vuoti e probabilmente non riuscirò più a riempirli. Poi qui abbiamo gli armaioli se non sbaglio. Vedete poi quello che ci droppano di più importante. Me lo sono scritto sui cartelli. Così non devo andare a controllare ogni volta. Semplicemente mi serve il piccone. Vengo qua e vedo che mi vende il piccone. Un altro piccone di tipo differente. Qua abbiamo il pastore. La roba più inutile del mondo. Abbiamo il tagliapietre. Che boh sì non è che mi interessa più di tanto. Poi qua abbiamo il macellaio. Il macellaio che boh onestamente neanche questo non è che mi faccia impazzire. Poi abbiamo il cartografo che l'unica cosa positiva è che vende queste mappe qua. Però una l'abbiamo fatta insieme. Però mi domando se poi me ne crafto e ne compro un'altra. Sarà diversa? Mi porterà un'altra zona? O sarà sempre lo stesso? Questo è un dubbio. Difficilmente da confutare perché c'erano in circa 5000 blocchi da fare. 5200 è una roba pazzesca. Ci si sta nella vita. Magari lo faremo quando avremo le litre e potremo volare. Poi abbiamo il conciatore. Altra roba totalmente inutile. Tanto che me ne faccio delle cose in pelle onestamente. L'arcaico fantastico. Permette veramente con pochissimo di ottenere un sacco di smeraldi. Guardate dagli stichi, dai bastoncini. Oppure dalle corde che lasciano i ragni. Oppure dalle piume che lasciano le galline. Insomma è facilissimo. E in più mi dà queste bellissime frecce potenziate. In questo caso danno debolezza al nemico. Tanta roba. Qui non c'è niente. Questo qua vende asce e spada. Beh non male. Guardate ve la faccio vedere. Ovviamente in diamante. Quindi questo qua è efficienza 3. E questa spada ha flagello degli artropoli 2. Non male. Già con questo si one shottoni i ragni. E contraccolpo 1. Vabbè contraccolpo non mi interessa. Qui un'altra spada. Vediamo un pochettino. Questa non ha efficienza. Quindi non la uso mai. Questa qui ha filatezza 2. Fa 9 di danno. Direi assolutamente non male. E poi abbiamo il chierico. Ni. Non lo so quanto serva. Più che altro per le ender pearl. E anche questa luminite. Non è male. Per decorare. Mettersele a luce così. E poi ecco i due armaioli. Di cui uno mi vende stivali e casco. Elmo. E questo qui invece mi vende di nuovo l'elmo e i pantaloni. In pratica mi manca la pettorina. Tant'è che ho lasciato questo spazio libero. E da due giorni abbondanti che lo sto cercando. Come ho detto ne ho ammazzati tantissimi. Niente che mi esce come dovrebbe. Adesso invece per fortuna guardate. Mi è sbucato stranamente un armaiolo. E di. Uh. No. Miracolo. Miracolo. Mi è sbucato anche il bibliotecario. Nice. Oh speriamo che perlomeno in questo video l'audio si senta. Mannaccia le bestemmi. Allora lui l'ho già bloccato. Ho fatto un acquisto. Quindi l'ho bloccato. E anche se tolgo il suo banchetto da lavoro non cambia più. Andiamo avanti. Mi chiede metallo. To. Beccati il metallo. Mi chiede. Ah non mi chiede la pietra focaia. Strano. Di nuovo pantaloni. Che sfiga. Ah. Allora come posso salire? Il secchio di lava non c'ho voglia di dargli. Il diamante. A due gli ho dato addirittura il diamante. Perché non sapevo come salire. Cinque. E questo qui ancora non l'ho mobizzato. Ah un'altra cosa che hanno rovinato con l'aggiornamento è che se un tempo li mobizzavi e poi li curavi ogni volta di volta in volta ottenevi uno sconto fino a veramente a prendere le cose con una unità. Un'unità di bastoncino, un'unità di smeraldo eccetera eccetera. Adesso non è più possibile farlo. Lo puoi mobizzare solo una volta, avrai solo uno sconto e poi basta. Finito lì. Tristezza infinita. Io non lo so se poi andranno a cambiarmi anche quelli che ho già fatto. Tipo vediamo questo qui. No questo qua è nuovo. Dove sono i vecchi? Scusate questo. Sei. No c'è già qualcosa aspettate. Dove sono i due vecchi? Ah no i due vecchi sono questi. Un altro armaiolo. Ah no è sempre lo stesso. Vediamo se questo qua è a uno. Sì perlomeno i vecchi non sono ritornati alti di prezzo. Meno male. Diciamo l'aggiornamento non è retroattivo. Allora è che gli compro? Quasi quasi lo mobizzo però se già mi dà il pantalone non credo che mi dia anche la pettorina. Togliendolo dovrebbe aver perso sì il lavoro. Adesso glielo rimetto dovrebbe riacquisirlo. Eccolo lì. Viene qua vicino. Vediamo se ha ancora canalizzazione oppure se ha cambiato. Eh no rimane fissa. Che sfiga. Che no. Dai funziona ancora. E vai. Io devo cercare unbreaking. Quindi come si dice in italiano. Indistruttibile o qualcosa del genere. Oh che sollievo. Tocco di venuto. Ce l'ho già. Effettivamente questa cosa era davvero molto OP. Però voi dovete capire che io ci gioco da tre giorni con i villager. E quindi sta cosa mi piaceva un sacco. E me la tolgono subito. Io ci rimango male. Piango. Piango. Quindi boh non so. Io adesso ne approfitto. Se poi. Non so se si mantiene. Devo cambiare di nuovo. Devo rifare la partita perché si aggiorni. Non lo so onestamente. Comunque se rimane così a me va bene dai. Allora prima di tutto mi ammazzo gli altri. Che non accettano nessun lavoro. O comunque non accettano questa tipologia di lavoro. Lui no. Lui no. Questo si li devo poi uccidere perché ce ne ho troppi di farmer. Tantissimi farmer. Cioè il 50% vogliono fare gli agricoltori. E tutti gli altri non accettano questi due lavori. Quindi è una strage per me. È una strage. Va malissimo. Allora devo isolare l'armaiolo. Lo devo portare qua. Vediamo se ho i recinti. No. Vado a prendere i recinti. È incredibile come in tre giorni di vita reale. Cioè non vi dico quante ore ho passato a farmarmi sti farmer. Per scusate villager. Per trovare un bibliotecario. Anche solo un armaiolo. In tre giorni attacco il video. Registro e me ne trovo due adesso. Ma che botta di culo. Gli sposto. Gli sposto questa. Sì tanto ormai l'ho bloccato. Se io gliela metto qua dovrebbe venire qua. Ok. Bravissimo. No. Si è incastrato. No. Non sei molto sveglio. C'è il passaggio qui amico. Ma porcaccia. Forza. Vai là. Di qua. Un pochetto più in là. Dai che ce la facciamo. Apriamo lì. Vammi nell'angolino. No. Distruggiamogli. Se no non si muove di qua. Ok. Dentro. E dentro. Bene. Poi. Ce lo portiamo. Nel vagonetto. Molto bene. E lo avviciniamo al mob. Però visto che mi devo fare anche. Non troppo vicino. Aspetta. Ce li facciamo insieme così. Mi risparmio una bottiglietta. Per l'avvelenamento. Per l'indebolimento. Poi dovrò sempre sprecare due mele. Però vabbè. Allora. Faccio che prendermi già la carta. Perché se trovo qualcosa di buono. Non mi devo allontanare. Una volta ho trovato. Finalmente. Quello che cercavo. Poi sono andato in base. A prendere la carta. E quando sono tornato. Aveva già. Un incantesimo diverso. E non vi dico quanto ho bestemmiato. Dove sta? Scusa. Il tuo banchetto è qua. Dovresti venire qui. Mannaccia. Veloce. Veloce. Dave. Io stupidamente ho già aperto. Però vedo che non scappa. Mi piace proprio il banchetto. Ok. Vieni qua. Bravissimo. E ti porto momentaneamente qua. Bene. 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 Vediamo un pochettino. Mettiamoci qua. E farmiamo la magia che preferiamo. Ultime volte che si potrà fare. Impatto. Quindi godiamocela. Godete tutti quanti. Dov'è? Qua. Prendete e godetene tutti. Affilatezza 5 ce l'ho già. Tanta roba. Ti porta l'arma, la spada a fare 13 di danno. Ecco. Anche questo non è male. Mi son detto. Prima o poi me lo farò. Questo è un modo per avere smeraldi infiniti. Non bisogna neanche portare delle risorse. Se con la zucca e il, l'anguria diciamo, è molto facile. Perché ho la farm che me lo produce da solo. Quindi vengo qua e scambio diamanti. Qui non abbiamo bisogno di fare niente. Perché con un diamante, nel momento in cui poi lo zombizzeremo, con un diamante ci dà uno scaffale che distrutto ci dà una moltitudine di libri. E con un libro ci darà uno smeraldo. Quindi avremo un rapporto di 1 a 4 a nostro vantaggio. Tantissima roba. Però non sento questa necessità. Ho già un disastro di smeraldi. Quindi preferisco scegliermi un incantesimo raro. Unbreaking, unbreaking. Dai! Dai! No! Riparazione. Oh, due volte riparazione. Incredibile. Quando l'ho cercato ci ho messo una vita a trovarla. Respirazione. È proprio vero che il gioco sembra quasi che ti capisca e faccia l'opposto per farti offendere. Per farti rattristare. Perforante 4. Perforante credo che sia per la balestra. E non è assolutamente male. Scusate, ma io nel frattempo devo ammazzare questi. Altrimenti i farmer non fanno più figlioletti. Io uccido e loro producono. Me ne stanno facendo pochi qua perché poco più là vicino alla base ci sono gli altri che sfornano figli a manetta. Maledizione del vincolo. Un'altra maledizione. Quella che non ti permette più di togliere quella determinata cosa che ti sei incantato. Abbiamo già trovato due degli incantesimi peggiori che potremmo utilizzare. Protezione ai proiettili 4. Non male. Occhio! Come hai fatto uscire tu? Scusami, eh. Da dove arriva questo? Ma non mi dire che sono questi qua che stanno facendo figli e come avrebbe fatto uscire di qua. Questi qua in pratica sono due armaioli che mi danno le stesse cose che mi danno gli altri due però sono leggermente peggiorative e quindi ho deciso di non ucciderli però non voglio neanche esporli qua perché qua purtroppo nonostante siano grandi i posti sono comunque limitati mi tengo solamente i migliori. E loro quindi li ho decisi di metterli in quel tugurio, poveretti. Se mai mi dovessero servire. Anche perché ancora ho dei dubbi Fragili dell'Antropo T4, no. Anche perché ho ancora dei dubbi riguardo le volte in cui ti vendono le cose dopo svariati acquisti decidono di non vendertele più. Alcuni dopo un giorno ti permettono di nuovo di rivendere e riacquistare altri invece non hanno mai più permesso di farlo tipo l'arcaico che sarebbe tanto buono. Non riesco a capire questo aspetto. Ho cercato in rete qualche soluzione ma ho solo trovato informazioni generiche che ti dicono e dopo un po' poi riprenderà a vendere e comprare ma invece deve essere qualcos'altro. Perché ripeto ci sono i farmer qua che comprono non dico all'infinito ma sempre tutti i giorni. Io mi faccio 80 smeraldi con 3 farmer tranquillamente. Mentre altri invece dopo la prima volta non hanno mai più comprato e venduto nulla. Quindi devo capire questo aspetto. Esca dai dammi qualcosa di bello. Porcaccio questo unbreaking è davvero rarissimo da trovare. Ho trovato solamente l'1 mi sembra livello 1 mi sembra che il massimo sia il 3. Eccolo qua indistruttibilità però livello 1 aspetto di fuoco 2 e se non sbaglio è il massimo così c'è scritto sulla guida e serve per la nostra spada non è affatto male. Allora guardate cosa ho trovato protezione 4 che è il massimo livello in pratica è un incantamento che va a ridurre tutti i danni arrecati al giocatore fate eccezione ai danni derivati dalla fame avvelenamento soffocamento eccetera eccetera credo che sia un qualcosa di estremamente importante anche perché poi può essere steso su tutta l'armatura quindi sull'elmo sulla corazza sui gambali e via dicendo e visto che quasi tutta l'armatura e le armi io le ottengo gratuitamente dai villager forse l'unbreaking che ha come scopo quello di preservare la durata delle armi non ha neanche troppo senso secondo me questo è più importante quindi io figlioli accetto questo ne compro 24 così ho bloccato il lavoro di questa persona qua e mi rimane protezione 4 molto bene infatti se lo tolgo adesso mi rimarrà sempre questo va bene va bene va bene dai sono soddisfatto metterei questi due vicini vicini facciamo ahia ah è notte buono buono così li posso anche trasformare subito li mettiamo vicini oddio ho finito le pozioni che palle allora fatto qualche pozione direi che possiamo tornare sotto purtroppo ormai è giorno quindi bisogna aspettare che torni notte non lo so se è una caratteristica solo degli affogati si chiamano così se non sbaglio si gli annegati affogati che attaccano solamente di notte però questo mi torna comodo perché per esempio una volta mi si è rotto il carrello che lo conteneva mi è sfuggito là sotto avrebbe potuto fare una strage per fortuna era giorno e di conseguenza non è successo nulla ammazziamo altri villager questi con la maglia verde purtroppo sono dei nulla lavoranti nel senso che non accetteranno mai il lavoro e questi qua chissà cosa vogliono accettare ma di sicuro non gli va bene quello che li propongo io quindi ciao eccetto quello che guarda le donnine nuda e straiate sulla riva del lago dell'altra parte del fiume dell'altra parte cosa guardi zozzone vai a lavorare poi una volta che avrò trasformato tutti cioè che avrò trovato il lavoro per tutti invece del paletto metterò i rispettivi banchetti di lavoro ora non posso farlo l'avevo già fatto li ho dovuto togliere tutti perché quando nascono i villager si attaccano si affezionano a quel determinato banchetto e anche se io glielo togo glielo rimetto per trovare magari l'incantesimo comunque la configurazione che meglio preferisco per il villager non cambia perché rimane rilegata non alla tipologia del banchetto ma a quello specifico banchetto quindi ho dovuto prendere e togliere tutti altrimenti non posso farli di nuovi l'alternativa sarebbe farli nascere da una zona molto più distante affinché non ci sia questo problema quindi nel frattempo che aspettiamo io quasi quasi mi compro un po' di libri riparazione importantissimo io me ne prendo almeno tre affilatezza 5 io quasi quasi un altro me lo prendo come avrete capito i bibliotecari sono veramente i migliori tra tutti anche vero che gli armaglioli ti danno una corazza completa indiavante per carità però questi qua fanno la differenza secondo me respirazione questo anche tanta roba da quando ho caschetto con respirazione sto nell'acqua sotto che è una meraviglia adesso mi si è distrutto devo rifare da capo tutto per esempio guardate lui da una vita che non posso più commerciare con l'arcaico e non so il perché non riesco a capire il perché a un certo punto ho creduto che magari ci desse in qualche modo la loro felicità quindi la necessità di muoversi di poter dormire nel letto di avere il banchetto da lavoro non lo so perché effettivamente i più felici che sono i contadini hanno tutto questo e con loro posso vendere in continuazione ok è notte vai oronzo oronzo è notte baghettino devo riavviare il gioco si eh è purtroppo è sempre così ah no no funziona questo giro vai vai bravo 2 3 4 5 6 ok 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 no no carrellino bastardo perché sei tornato qua mannaccia era andato così bene devo cercare di spingerlo però sto giro ok no non tornarmi indietro ma porcaccia allora solitamente non tribulo così tanto beh se un momento non va la montagna facciamo così tanto lui ormai l'abbiamo staccato dalle zombie ok sono entrambi zombizzati però un colpetto più in là glielo vorrei dare ok questo perché se dovessi ritrasformarlo mi verrebbe nuovamente attaccato da lui se fossero troppo vicini proviamo a colpire al centro così vediamo se va si meno male vai una e due ok sono ritornati dei nostri vediamo un pochettino è rimasto caro non è più sceso di sotto scende a meno a meno no a uno strano di solito dopo la prima zombizzazione si può dire dopo la prima zombizzazione questi scendevano a un smeraldo poi questo rimaneva sempre più alto ma qui sempre uno vabbè oh pazienza tanto che vuoi che siano tre smeraldi in più non è che ne comprerò uno al giorno va benissimo anche così non c'ho voglia di continuare allora carta l'ho finita sì e ti compro questo protezione 4 tanta roba di questi ce ne vogliono molti perché devi mettere su tutta l'armatura poi libri libri ne ho dove sono i miei libri vai con i libri siamo secondo secondo no vabbè fantastico era quello che volevo indistruttibilità credo che il massimo sia 4 vediamo un pochetto no figlioli è il massimo è il massimo fantastico cioè non speravo nulla di migliore gli ultimi due incantesimi che io stavo cercando indistruttibilità prima come vi ho spiegato mi sono trovato con lo stesso personaggio sia questo che protezione 4 mamma mia questo qua è importantissimo sì dammeli 3 andiamoci ancora altri libri ho finito i libri in sto giro allora questi qui anche ce li ho a casa ne ho tanti andiamo a lasciare un po' di cose no sono contentissimo cioè non poteva assolutamente andare meglio di così sperare di trovare due tra i migliori incantesimi per le corazze nello stesso nello stesso villager mamma mia che botta di culo e dire che questo video era incominciato male vedete il destino eccoli qua diciamo che i libri non mi mancano guardate quel canneto immenso mi manca la pelle di animale perché mi sto uccidendo poche mucche sapete come incominciano a farmi pena tutte quelle mucche che si disperano quando le massacri giustamente direi allora vai di libro no sbagliato scusami il libro ecco è questo qua vai e poi bombaster il resto non mi interessa onestamente 14 carissimo per le game tag una bussola questo non mi interessa quindi con lui abbiamo concluso sì potevo fermarmi qua ora tocca a lui carbone non ne ho più non ne vuole più no non ne ho più poi metallo ancora ce l'ho però e sì dammi queste sì sì finalmente ho anche la pettorina no vabbè che episodio fortunato figlioli avevo perso ormai ogni speranza in una botta solo mi sono trovato tutto quello che volevo oh devo ammetterlo sono una persona fortunata stasera posso anche far a meno di trombare con la tipa vai dammi questi che tanto mi servono pure e poi dammi ancora dammi un altro di questo ma sì dai riempiamoci di sti pantaloni ecco è già pieno solo tre me ne ha venduti basterdo e questo potrebbe essere un problema vai finalmente finalmente la pettorina è tutto a uno smeraldo fantastico oh buttiamo via vediamo con quale consacrazione è uscito è un po' brutta protezione dei proiettili 1 vabbè al massimo la disincanto ci metto io qualcosa via via e via oh molto bene allora mettiamoci via l'armaiolo nel suo slot che aspettava da tempo di essere riempito un po' come cicciolina no come non detto devo fare prima lui mannaccio ok 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 vai vai verso il tuo destino che comodità ste carriole mamma mia ti evitano di bestemmiare vai dentro la tua nuova casa per l'eternità l'eternità speriamo che non mi scappi vai bene in là bastardo so già che tu vorrai scappare preso chiuso ok chiudiamolo qua io sono gentile li lascio un metro in più di distanza vai ok uno è fatto facciamo cambio binario per l'altro lì va bene pensate che ho fatto questo per tutti quelli che vedete e anche più volte perché li avevo spostati se vi ricordate erano diversa la sala qua era tutta diversa ok aspetta dammi dammi la carriola lì ok ok non tenta neanche di scappare questo vedete è felice siete voi che pensate male che loro sono tristi chiusi in questi loculi e in queste stanzette bellissime oh bene 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 qua ci scriviamo vediamo un po' quei pantaloni si si vende i gambali e corsaletto si chiama ok anche lui a posto come vedete abbiamo tutta l'armatura e poi lui il the best il the best che ci dà protezione 4 e indistruttibilità 3 eccolo qua e pensare che con l'aggiornamento ci volevano togliere tutto questo ma sono pazzi no effettivamente è decisamente OP così e guardate che sfilza di meraviglia che abbiamo a nostra disposizione però ci piace ci piace ditemi nei commenti se non piacerebbe anche a voi avere tutto questo facile facile adesso a quanto pare ogni tipo di bibliotecario si troverà solo in determinati biomi quindi se vogliamo per esempio affilatezza dovremo scoprire in quale bioma vive andare in quel bioma cercare il villaggio e cercare il bibliotecario a patto che ci sia come vedete non è affatto facile credo che poi sia la stessa cosa se li creiamo noi in quel determinato bioma altra curiosità questo è un blocco di rame come quelli giù in fondo prima era il bel colore rame che è quel tipo caldo ambrato diciamo così come il legno sopra solo che hanno avuto la geniale idea di inserire l'effetto di ossidazione del rame e quindi è diventato verde blu celestino curiosa come cosa ci sono rimasto male devo dire adesso è bellino ma quando incominciava a degradarsi faceva abbastanza schifo un po' come la statua della libertà che è tutta verde no? perché è fatta di rame va bene direi che per questo video dove l'audio è stato finalmente registrato è tutto ciao 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 Grazie a tutti